Ciao ragazze, come vedete ci sono ancora, non sono sparita, semplicemente è uno di quei periodi del mese che noi donne odiamo e di conseguenza odio, cioè non voglio farmi, diciamo vedere, diciamo che non sono nel periodo di registrare, allora volevo mostrarvi il volantino dell'acqua e sapone perché ho visto che comunque alcuni mi hanno chiesto delle informazioni sull'acqua e sapone e quindi ho detto rappiamo il volantino quando vado ad acquistare e vi mostro così le cose, inoltre volevo ricordarvi che c'è un'app gratuita, un'app gratuita del telefono che vi mostra tutti i volantini, io in questo video ve lo vorrisco a far vedere meglio perché non c'è riflesso nel mio cellulare, vedete? Ora non pretendete chissà cosa perché ho una videocamera che non mette a fuoco nulla, comunque questo simbolino qua e si chiama, nella scritta che non riesce a mettere a fuoco, si chiama promo qui, è gratuita, ora la schiacciamo insieme vi faccio vedere, individua la vostra, vi localizza diciamo e ci sono tutti i volantini di tutti i negozi vicino a voi, quindi c'è l'Ipershop, il Carrefour, Basco, Lidl, tutti 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 i volantini, anche quelli più lontani, basta andare più avanti e ci sono ovviamente anche i volantini dei negozi più distanti da me in questo caso, quindi per essere un'app applicazione gratuita, devo dire che è fantastico, io almeno la uso spesso, quindi ve la consiglio davvero, o se non avete uno smartphone c'è il sito che si chiama doveconviene.it se non sbaglio, dove ugualmente ci sono i volantini, anche se mi pare che non ci siano proprio tutti tutti i volantini della zona, però anche quello è valido. Vi faccio vedere il volantino dell'acqua e sapone e parto dalle cose più belle, diciamo, perché io almeno sono fatta così, vado a vedere direttamente quella del make up e cose del genere e poi più avanti vado con la zona casa e tutto quello che mi interesserebbe anche a me pian pianino. Infine vi mostro anche le due cosine che ho acquistato, io ho acquistato una cosa dalla acqua e sapone nel weekend, solo una perché come sapete sto cercando di resistere all'acquisto anche se è difficile. Poi dalla coin ho acquistato due o tre cosine per chi ha visto la foto su Instagram o Facebook, ma me le ha regalate, diciamo, il mio ragazzo per la festa della donna. Allora, innanzitutto questa pagina vi mostra i vari sconti, ci sono i Rimmel che sono scontati, il marchio Rimmel, è molto interessante perché c'è in regalo il correttore, non vorrei dire una bagianata perché è questo che si capisce comunque sia, c'è scritto Rimmel Match Perfection, fondotinta compatto più correttore al prezzo del solo fondotinta. Quindi immagino che siano insieme, quindi c'è il fondotinta in regalo il correttore della Rimmel Match Perfection a 9,90€ con un risparmio di 5€ e il fondotinta in liquido sempre con il regalo il correttore a 7,90€ a meno di quello di prima, a 5€. Io lo acquisterei se fossi voi. Non ho, in questo momento come sapete non acquisto e sto cercando anche di regolarmi perché comunque fondotinta, mi ripeto nella mia testa, il fondotinta io non li utilizzo, sono più sui BB cream, quindi è inutile che faccia un acquisto del genere. Poi ci sono a 2,90€, anche questi direi che sono piuttosto buoni, dell'equilibria, almeno so che è un marchio abbastanza buono l'equilibria, non so, mi ricordo però che non tutti i prodotti sono bio se non sbaglio con buon inci. Questo è scontato di 1€ a 2,90€, il latte detergente e il tonico. Poi abbiamo della Garnier il tonico a 2,99€ con un risparmio di 1€ e il gel detergente a 3,99€, tutte e due 200ml. Sempre della Garnier abbiamo la crema idratante o comunque, sì, l'idratante per il vari tipo di pelle a 4,90€ con un risparmio di 1,59€. Infine, infine no, però c'è il mascara a 3,90€ della Deborah, anziché 5,90€, quindi con 2€ di risparmio, che è quello che ho acquistato io, ovvero questo qua. Per 3,90€ mi è sembrata un ottimo risparmio, un ottimo affare per un mascara, anche perché ho visto prezzi, cioè i mascara solitamente costano in circa 10€. E questo è l'unico acquisto che ho fatto. Poi ero indecisa anche questo, però ho voluto risparmiare, perché questo qua, della Rimmel Scandalize, sono 7,90€ con un risparmio di 5€ e in regalo c'è un mini struccante, 30ml, però comunque sia per chi può, vada. Della L'Oreal ci sono gli smalti e i rossetti in sconto. I rossetti sono con uno sconto di 6€, a 7,90€. E il L'Oreal, gli smalti, sono a 2,90€ con uno sconto di 2€. Io, se avessi i soldi, che non devo risparmiare, acquisterei sicuramente un rossetto. Poi vi faccio notare questo bellissimo sconto, io l'ho visto e vi ho messo la foto su Instagram, se non sbaglio. Comunque, se riesco, ve la metto, ve la inserisco anche in questo video. Dove c'è proprio un mini stand della Maybelline con questi prodotti scontati, che sono mascara, scontati del 40%, mascara, uno smalto, due ombretti color tattoo, uno nero e uno, questo qui, un azzurro molto fluo, diciamo. Poi c'è l'eyeliner, se non sbaglio, questo dovrebbe essere un rossetto, sì. Questi due, mi pare, siano questi qua, praticamente, sì, e la matita, l'eyeliner, scontati del 40%. Scontati del 40%, se non sbaglio, i mascara arrivavano a costare sempre all'incirca sui 10€, o 7,90€ o 10€. E questi color tattoo, se non sbaglio, 7,40€. L'unico che costava un po' di meno era lo smalto, che era 2,20€. Poi il rossetto non me lo ricordo, perché non vorrei dire una bagianata, mi sa che non c'era da me. Poi, nell'altra pagina ci sono i vari profumi, ve li dico rapidamente. Gocce di Napoleon a 7,90€, con un risparmio di 2€. Versace a 32,90€, con 15,60€ di sconto. Bright Crystal, è questo qui, comunque. Poi c'è Cacarelle, penso si chiama, o Cacarelle. Cacarelle? Cacà? No, Cacà, no. Cacarelle, conta 4,90€ per uomo, con un risparmio di 22,60€. Il Burghary, sempre per uomo. Acqua, 32,90€ con un risparmio di 17,10€. Poi abbiamo Marte, a 12,90€ con un risparmio di 4,00€. Poi abbiamo Azzaro, a 19,90€ con un risparmio di 10,50€. Moschino, con un risparmio di 25,90€. Per donna, 75 ml. E prima classe, 16,90€ con un risparmio di 16,30€. Ah, non ho detto le ml. Praticamente, sono tutti piccoli, tranne Cacarelle, che è 50 ml, e gocce di Napoleon, che è 100 ml, e Moschino, che è 75. Tutto il resto sono 30 ml. Passiamo all'igiene, diciamo. Abbiamo il Mentadet, tre pacchi di dentifricio a 2,99€ con un buono sconto da utilizzare subito alla cassa di 50 centesimi, quindi alla fine paghereste 2,49€. Poi abbiamo il dentifricio Neo Emoform, mai sentito, 3,69€ con un risparmio di 1€. E 2,99€ il dentifricio AZ con un risparmio di 1€. Ma se dovete acquistare, secondo me, un dentifricio vi conviene sicuramente il Mentadet, che ci sono tre pacchi. Poi abbiamo lo spazzolino Oral Bill a 79 centesimi e il filo interdentale a 2,29€ con un risparmio di 1€. Poi abbiamo un'offerta del Gillette Fusion a 3,99€. I rasoi usa e getta a 1,69€. E sempre per reparto depilazione abbiamo a 2,99€ il gel da barba, quindi per l'ometto. La crema idratante viso, sempre per l'ometto a 5,90€. Sembra una pescivendola, signore e signori. E il balsamo dopo barba a 4,90€, sempre della L'Oreal. Poi arriviamo al reparto femminucce, diciamo. Abbiamo il detergente intimo della Sensur a 1,29€ con un risparmio di 70 centesimi e dicono che sia una novità. Penso che sia il marchio Sensur ad essere una novità d'acqua e sapone. Io non sono avezza all'acqua e sapone, sono andata sempre più su tigotà e iperstop, quindi non so dirvi. Ci sono le salviettine intime, sempre della Sensur, che è una novità, a 12 pezzi a 0,99€. Poi abbiamo due detergenti, il bipacco, quindi due detergenti dell'infasi, l'intimo, a 3,98€. Gli assorbenti, petalo blu, 1,99€ della Lineas. L'intervallo, il salva slip, a 2,69€. Sono 60 pezzi. I tampax, a 2,69€. Soffi Soff Lady, un marchio che non conosco, degli assorbenti, da 12,10 pezzi a 1,29€. Altri assorbenti, 15 pezzi, 2,29€. E gli assorbenti supernotte anatomici della Laurella, anche questi non conosco, 99 centesimi. Poi abbiamo il deodorante Infasil, a 1,99€. Il deodorante Spray Infasil, a 2,29€. E il deodorante Spray Axe, a 2,49€, 150ml. Abbiamo anche un burro mani viso, che direi che, non so, non mi ricordo, non so l'inci, però ha un'offerta del genere per chi non interessa se è inci o meno. 1,99€, direi che è buona. 150ml. Burro mani, della Caloderma. Poi sempre della Caloderma, 1,69€, ci sono i burro mani e gele mani, da 75ml e 100ml, a 1,69€. Anche questa mi sembra un'ottima offerta, devo essere sincera. Qua mi sembra che ci sia l'aloe e questo qua, non vorrei dire una cavolata, sembrano delle noci, di macadamia o cose simili. Poi abbiamo Erbario Montechiaro, crema mani a 1,99€. Col burro di Cariteo, oleo di argane e burro di cacao. Non so dirvi niente del linci, perché non ne ho idea. Labello, a 99 centesimi, ma vi sconsiglio l'utilizzo, almeno io con il Labello non ho mai avuto un'idratazione sulle mie labbra. Blistex Pomata Trattamento Labbra, 2,99€, con un risparmio di 1€. E sempre dello stesso marchio, la crema mani a 3,49€. Poi c'è lo struccante della Nivea, con la crema corpo. La crema corpo, da 500ml, costa 3,49€. E lo struccante, con 125ml, 2,69€. Poi abbiamo una lozione corpo della Naturonei, questa qui, che sono 400ml, a 2,99€. E latte detergente e tonico, 500ml, della MilMil, a 1,69€. Ottima offerta, 1,69€, 500ml, mi sembra buona. Poi abbiamo salvettini e struccanti della Johnson, a 1,49€, sono 25 pezzi. Solo una, ovviamente, confezione. E l'olio, 500ml Johnson Baby, a 3,49€. Poi abbiamo la palette, la palette, magari, sì, la colorazione dei capelli con il marchio palette, penso, 2,99€, anziché 3,99€ con un risparmio di 1€. La linea Vital Care, che io, se non sbaglio, utilizzavo della stessa linea alle maschere, che mi sono sempre trovata bene. Gli shampoo, da 500ml, vengono 2,99€. I balsamo, che non si sa per quale motivo misterioso, sono metà prodotto, quindi 250ml, viene 2,49€. I cristalli liquidi, 50ml, 3,99€. Poi abbiamo l'intera gamma della Sunsilk, Keratinology, shampoo e balsamo, 2,29€. E, sempre della stessa linea, la maschera per capelli colorati danneggiati, a 200ml. E il trattamento ricostruzione notturna, a 3,99€. Poi abbiamo lo shampoo della Clear, a 1,99€. Questo, acquistando una tinta della Garnier Belle Color, a 4,90€, subito per te regalo le ricette di sale e pepe. Quindi, se vi serve una tinta, approfittatene, c'è il regalo e la ricette. Poi, acquistando una lacca alto cielo, cielo alto, scusate, in omaggio ricevi una lacca da borsetta. Carina, come idea, 9,90€. Poi, l'offerta con cui io mi ero fiondata, ma ovviamente non ho trovato nulla, è questa qui, ovvero il Balsamo Splendor, a 79,00€. Io, ragazzi, non ho trovato nulla, spero di riandarci questo sabato e di trovare qualcosa, perché, non so, sembra che li abbiano regalati, non c'era più nulla. Io sono andata il giorno dopo le messe e le offerte, quindi non è che sia andata dopo tanto, eh. Vabbè. Poi c'è questa crema capelli, 500ml, struttura .it, a 1,99€. Non so se sto andando troppo lenta, forse, perché sto vedendo che... Facciamo un rapido Johnson, bagno Johnson, 750ml. I bagno doccia della Intesa, 2,49€, sono 500ml. Felcia azzurra, felice, va bene. Felcia azzurra, bagno 500ml, più 100ml, gratis, in più, diciamo. Quindi 600ml, a 1,69€. Ottimo da acquistare. E a 99 centesimi della Vidal, il bagno doccia, 500ml, subito seguiti da quelli da 250ml a 69 centesimi. Felcia azzurra, sempre a metà confezione, cioè 250ml, scusate. 99 centesimi, 250ml, anche per l'intesa, 1,29€. E la novità, sempre, della Sensur, 1,49€, il bagno doccia, 500ml. Qua si intravede, l'aloe, il miele, e questo non ho, il muschio bianco, ok. Poi abbiamo a 2,49€ il bagno doccia della Provenzali. Ottimi, io se non sbaglio ho questo qui al tè verde, ma me ce l'ho già da un bel po', però davvero ottimi, ragazze. Poi abbiamo il sapone liquido, 1000ml, non vi finirà mai più, 1,19€. Tre saponette della Felcia azzurra, a 99 centesimi. E il sapone liquido della Vidal, a 79 centesimi. Passando dal reparto bimbi, velocemente, abbiamo i pannolini della Carezza, che non li conosco, 2,99€. La linea Fissan, abbiamo il bagnetto primi mesi, a 3,49€. La crema nutriente, sempre allo stesso prezzo, penso. La polvere a 1,69€, penso il talco. Le salviettine a 1,99€ e il telo igienico multiuso a 3,99€. Poi abbiamo i pampers, i bipacco a 10,90€. E le salviettine, che sono 6x60 pezzi, a 4,90€, anziché 6,90€. Poi, dalla Sensor, abbiamo le salviettine a 1,99€ e 24 pezzi. E i guanti umidificati, monoduso, a 2,99€. Poi abbiamo la carta igienica della regina, carta camomilla, a 1,99€. Questi, che ho acquistato anche per casa, sono carta igienica della Scottex, con un risparmio di 2€. Sono 16 rotoli, però. E questo, dei 50 centesimi, lo sconto dei 50 centesimi, che giustamente non ho utilizzato, ora che ricordo. Poi ci sono in offerta anche i fazzoletti della regina, a 79 centesimi, 10 pacchetti. Ora, giriamo la pagina se mi si riesce. Prodotti per gli animali, gli amici animali. Abbiamo le crocchette a 3,49€, per i cani, mi sono dimenticate i cani. I bocconcini, a 99 centesimi, se non avete un cane che ha pretese come il mio, che vuole solo il patè. Le scatolette della Cesar, a 69 centesimi. Un osso, per farlo giocare, a 1,99€. E i biscottini, a forma di ossa, a 1,49€. Poi abbiamo le salviette, quelle da mettere, i tappetini, da utilizzare per fare i bisogni a casa, a 2,49€. E passando per il gatto, abbiamo la sabbia a 79 centesimi. Le ghiottonerie della Felix, a 1,49€. Le scatolette, a 59 centesimi della sceba. A 39 centesimi, i bocconcini. E le crocchette, a 2,29€, sono 2 kg. Mentre mi sono dimenticata di dire che quelle dei cani sono 4 kg. E come ultimo, i frischi scroccantini, per i gatti, a 99 centesimi. Per la casa, se siete ancora insieme a me, vi ringrazio, sto perdendo la voce, ma va bene. Abbiamo un rotolone, di quelli da 100 strappi per pulizie varie, a 1,49€. Il airwik diffusore, a 1,19€. Poi abbiamo il emulsio facile, della cera, a 750ml, a 3,49€. L'airwik, la ricarica, della ricarica, a 3,49€. Sempre emulsio, il detergente ravviva parquet, a 1,79€. Chantecler sgrassatore, a 1,69€. E i due ace, crema gelco candeggina, a 1,09€. E igiene casa, pavimenti, a 89 centesimi. Poi c'è questa promozione, vinci dieci anni di shopping, acquistando, penso, tre prodotti, che sono questi qui, ovvero il vicinet, 1,69€, un mino bianco, 2,49€. Smac, a 1,99€. E vetrillo, 1,69€. Acquistando tre prodotti e conservando lo scontrino, c'è scritto devi andare su quel sito e tentare la sorte. Il video si fa lunghissimo, ma è purtroppo più veloce di così non riesco a fare. Abbiamo i prodotti finish, per la lavastoviglie e per chi fosse interessato. Sono 9,90€ i Powerball, tutto in uno. Il cura lavastoviglie a 2,99€. Il brillante a 2,49€. E il deodorante a 2,49€. Poi abbiamo l'anticalcare via cal, a 1,49€. Questi panni microfibra e cotone, a 1,29€. L'assa assomop microfibra, che non so cosa sia, a 1,99€. Sembra uno scopone, comunque sia. I sacchetti della spazzatura, 99 centesimi. Gli asciugoni reggina a 1,49€. Sono scottex, sono due rotoli da 200 strappi. Poi abbiamo i due cucchi pellicola e alluminio. Pellicola viene 99 centesimi, l'alluminio a 1,79€. E il gel detergente piatti a 69 centesimi. Il marchio è quello dell'acqua e sapone. Poi qui vi faccio un'intera panorama, panorama panoramica. Abbiamo la candeggina, no, l'ana e delicati della marchio scala a 99 centesimi. L'apretto della felce azzurra a 99 centesimi. Bodeox a 1,99€ per capi neri e scuri. Bolt a 2,99€. I prodotti DASH, ovvero il smacchia bianco additivo e l'additivo in polvere a 3,49€. E il DASH Actilif a 4,49€. Poi abbiamo Deox a 3,99€. Lavatrice per 23 lavaggi. Felce azzurra morbidente 1,49€. Sempre della scala morbidente a 99 centesimi. Candeggina a 99 centesimi della scala. Felce azzurra acqua da stiro profumata a 99 centesimi. Mia madre dice che è ottima. E lavatrice lana e capi delicati a 1,69€. Ultima pagina e vi giuro che ho finito. Questa offerta che ho approfittato anch'io a 3,99€. 2 pezzi della Biopresto per lavatrice. Io ho preso anche qua, non si vede, ma c'è anche quella alla profumazione agrumata. Poi abbiamo il Lactacid. E il detergente intimo sarebbe. 2 pezzi a 2,49€. 2 pezzi delle saponette Nivea a 68 centesimi. 2 pezzi dei dischetti dell'acqua e sapone a 1,28€. Sempre 2 pezzi a 99 centesimi in panno in lattice. E sempre 2 pezzi a 1,28€. Il tutto fare in panno microfibra. Io dovevo chiedervi se si possono utilizzare anche per il viso questi in panno in microfibra. Voi lo sapete? Se lo sapete potete commentare e dirmelo. Perché se no lo acquisterei. Poi come ultimo abbiamo 2 pacchi di tovaglioli a 1,68€ della scala. E 2 pacchi della linea Idea, sottile e Liberty, da 16-14 pezzi a 1,48€. Concludo con chi ha la tessera, perché vi ricordo che queste offerte qui sono con la tessera. Che chi ha la tessera, raccogliendo 50 bolle, in regalo questo mese ci sarà questa caraffa Italia, amore mio, della Bormio Coli Rocco. Ecco. L'unica cosa che vi dico, ah vabbè, questa offerta giustamente non l'ho fatta notare, la Sansilk 1,49€ e l'Ixane Vernell al prezzo di 4,98€. Questi due. Ultima cosa vi mostro, questi sono i regali che mi sono acquistata, più uno make-uposo, ma piccolo piccolo ve lo giuro. Non è niente, ho approfittato semplicemente degli sconti della Essence. Comunque sia in offerta trovate da la Coin, questo mese come fragranza. La Honey Blossom, che è questa profumazione di... mamma mia che buona. Penso sia di lavanda, non è lavanda, forse è violetta. Non so, a me piace molto, devo essere sincera. Non si vedrà un belino, perché giustamente ho una videocamera del 15-18. E comunque fidatevi, ci sono anche questi della Baby Powder come profumazione. Io ho preso il sample, che è molto delicato, molto buono. E poi mi sono acquistata tre tartine, tart, che non avevo. E mi sono presa questa perché mi incuriosiva molto, la Soft Blanket. che è anche questa, comunque è molto leggera, molto... mi dà la sensazione di pulito, come la Baby Powder. Poi c'è questa che secondo me ha una profumazione maschile, quindi non... vi assicuro che piacerà anche al vostro home. Che è Midsummer Night. E davvero è una cosa grandiosa. Cioè, se non sbaglio, mi pare di aver letto che ci fosse il Paciuli. Comunque, veramente ottima. Io come profumazioni vi dico, non vi so descrivere bene le cose, ma vi assicuro che è buonissima. Andate ad annusarle per saperle meglio. E l'ultima che mi sono acquistata è questa Garden Squid Pia. Penso lì si lega così, sempre floreale. Per tornare un po' alla questione primavera. Ora volevo acquistare, se riesco a prendermi le tart, quelle nuove, della nuova uscita, edizione natalizia, edizione primaverile. Dico se riesco ad acquistarle perché ho avuto dei problemi. Cioè, mi sono accorta che questi produttini che ho preso della Essence mi sono stati fatti pagare a prezzo intero, e quindi devo andare lì con lo scontrino. Ora ve li faccio vedere, sono questi qua. Devo andare lì con lo scontrino e... Cioè, non va bene perché nello stand della Essence erano chiaramente scontati a 1,19 euro. Quindi questo qui comunque sia è uno smalto che non vi so dire la meraviglia. La mia telecamera non può rendere quanto sia bella. Comunque sia, ci sono un sacco di... brillantini, chiamiamolo brillantini. Non sono proprio piccoli, sono brillantozzi. Di tutti i colori proprio. E poi ci sarebbe stato questo della Essence Stay Matte? No, Stay Matte no. Però comunque quelli lì a lunga tenuta. Questi rossettini qua, questo qua. Come colorazione veritiera, comunque sia. E il colore è lo 07. Si chiama Natural Beauty. Che questo mi mancava, diciamo, non ne ho voluto approfittare. Che c'erano gli sconti, anche se poi non... Me ne sono accorta solo oggi, perché sennò veramente sarei andata subito a parlare. Spero non mi facciano stoie. E infine l'ombretto della 3D Essence Eyeshadow, che sono solo quelli che appunto questi tre usciranno fuori produzione e costano di meno 1,19€. Niente, qui ho finito tra... Faccio una panoramica dei miei oggettini. Scusate se il video è lunghissimo. Lo taglierò sicuramente in due parti. Io vi saluto e ci rivediamo sicuramente presto, ragazze. Davvero. Vi mando un bacione. Ciao ciao!